Oggi Open Day al Centro di Salute Mentale di Monfalcone in occasione della giornata della salute mentale. Qual è l'importanza di un'iniziativa come questa sul territorio? Iniziativa molto importante perché questo è un territorio complesso con un alto numero di popolazione e con bisogni importanti di salute mentale, bisogni sociali e il servizio di salute mentale ha un'importante funzione di articolazione delle risposte ai bisogni della popolazione. Il tema della salute mentale è diventato ormai sempre più importante nella conoscenza del pubblico. Pensate che adesso l'OMS considera al numero uno la disabilità indotta dalle malattie mentali rispetto anche alle malattie cardiovascolari che una volta erano il numero uno, adesso il numero uno sono le malattie dell'area psicologica, psichica. Una persona su quattro si ritiene nel mondo abbia qualche problema di salute mentale. Dal punto di vista pratico della quotidianità che situazioni vi trovate a gestire? Accoglienza con otto posti letto di persone che vivono la crisi di un problema di salute mentale per cui hanno la necessità di un momento di attenzione rispetto alla loro problematica per cui vengono accolti al centro di salute mentale dove quindi ci sono operatori, in particolare infermieri OS che lavorano sulle 24 ore. E poi l'altra particolarità dei centri di salute mentale di questa nostra regione è che abbiamo tutto il territorio fuori, per cui le persone che vivono anche la loro problematica sono raggiunte al loro domicilio oppure in tutti gli ambiti di vita. Siamo 35 operatori, come dicevo prima, infermieri OS, medici, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, l'assistente sociale, lo psicologo, per cui abbiamo una pluralità di interventi che interessano sia la parte acuta e la fase acuta della problematica sia poi invece la recovery e la ripresa di quella che è la vita nella quotidianità.